Assessore, a quattro giorni dal fortunale che ha colpito Padova in modo talmente violento, si può fare una stima, una quantificazione dei danni? Sì, non è semplicissimo perché ci sono due ordini di danni, quelli pubblici ovvero gli edifici, i parchi, la manutenzione che sarà necessario fare e poi ci sono i danni dei privati che ovviamente man mano che arriveranno le richieste si potrà dare una quantificazione più precisa. Certo è che nell'ambito pubblico un milione di euro non basteranno per quanto riguarda sicuramente il patrimonio arborio che è stato perso, per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie che sarà necessario fare, potature, taglio di alberi, taglio di parti di albero, i rami pericolanti e quello che riguarda la pulizia in generale. Già penso che si possa vedere i risultati di un intervento massiccio che è stato fatto in questi giorni avendo richiamato molte aziende che lavorano per il comune in ambito privato. Abbiamo dato incarico di ovviamente passare le parti più difficili, quelle che potrebbero dare intralcio al traffico, intralcio ai passaggi pedonali e le pericolosità e poi si proseguirà con la pulizia in generale. La calamità naturale è stata chiesta, man mano che arriveranno le richieste da parti private si potrà dare anche per loro un'indicazione di danno. Certo è che si ragiona, secondo me, su cifre oltre al milione di euro. Per quanto riguarda invece gli edifici pubblici più danneggiati, quali sono e che hanno bisogno di più manutenzione anche in seguito appunto al ciclone? Ma abbiamo su alcuni edifici, la sera stessa del Consiglio, nel Consiglio Comunale abbiamo visto che è entrata l'acqua e anche in sala giunta, quindi ci sono sicuramente degli edifici che hanno bisogno di manutenzione, anche Casa Carmeli dove il vento ha in qualche caso spostato magari parti di coperture, quindi c'è la necessità di fare delle manutenzioni straordinarie. Poi ad oggi è ancora difficile quantificare, c'è il vecchio macello dove c'è l'osservatorio vicino agli ospedali, per capirci, che ha bisogno di manutenzioni, ne aveva già bisogno prima, ma oggi si sono complicate le situazioni, quindi la necessità di intervento è veloce. Purtroppo dobbiamo far fronte anche con quello che sono le capacità di bilancio che ha il Comune di Padova, che oggi sono strette. Stiamo quantificando e stiamo programmando interventi che dovranno essere fatti nei prossimi mesi con celerità.